Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma che per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché, mediante la legge, è data la conoscenza del peccato. Quindi, con queste parole, il Dio esclude che l'uomo possa essere giustificato per le sue opere, per opere, diciamo, come oggi vengono chiamate in molte circostanze, riparatorie. Comunque, il Signore fa sapere che per le opere buone, per le opere giuste, nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Questo perché la legge che Dio ha dato, e in questa legge ci sono tanti precetti che ordinano di fare, naturalmente, opere buone, dico, mediante la legge è data la conoscenza del peccato, non la giustificazione dal peccato. Cioè, la legge che Dio ha dato, mi riferisco alla legge che Dio ha dato ad Israele sul monte Sinai, non è stata data affinché l'uomo sia giustificato per mezzo delle opere della legge, ma per dare al popolo la conoscenza del peccato. Quindi la Sacra Scrittura è categorica a tale riguardo, per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Dunque, voi mi direte, ma allora la giustificazione come è ottenibile? Come si può ottenere? Ora, la giustificazione che dà vita si ottiene soltanto per fede, cioè credendo nel Signore Gesù Cristo. Infatti, cosa dice sempre la scrittura? Che ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio, attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti i credenti, poiché non vè distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione, mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo Egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare, dico, la sua giustizia, nel tempo presente, onde Egli sia giusto e giustificante, colui che ha fede in Gesù. Dunque, la giustizia di Dio, o la giustizia che viene da Dio, è basata sulla fede, e quindi l'uomo la consente, diciamo, la ottiene, mediante la fede in Gesù Cristo. Tenete presente che questa è chiamata la giustizia di Dio, e quindi è una giustizia perfetta. Non è una giustizia imperfetta, che manca di qualcosa, e quindi bisogna aggiungervi qualche cosa, perché non è completa. No, la giustizia di Dio è perfetta, completa, e dunque chi la riceve viene da Dio costituito giusto. Ora, questo concetto, o meglio, questa dottrina della giustificazione per fede è confermata dalle parole di un profeta, che è il profeta Abba Kuk, il quale disse che il giusto vivrà per la sua fede. Non dice che il giusto vivrà per le sue opere, no, ma il giusto vivrà per la sua fede. E dovete sapere che la giustizia di Dio, appunto, basata sulla fede, è rivelata. nell'Evangelo perché è scritto che in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo. Questa è la parola dell'Evangelo nel quale è rivelata appunto la giustizia di Dio. Appunto, la giustizia di Dio. quindi, chi crede nell'Evangelo viene giustificato, viene reso giusto, costituito giusto. Quindi, la giustificazione si ottiene credendo nel Signore Gesù Cristo, senza le opere della legge, senza opere buone, quindi, cioè Dio imputa al credente la giustizia senza opere. In sostanza, il Dio compie quello che compì con Abramo, il patriarca, del quale viene detto ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Che cos'è quel ciò? è la sua fede. La sua fede gli fu messo in conto di giustizia e dunque Abramo fu giustificato non secondo la carne, non per le opere. Notate bene questo. Perché se Abramo fosse stato giustificato per le opere avrebbe avuto di che gloriarsi davanti a Dio. Ma dinanzi a Dio Abramo non ha di che gloriarsi proprio perché il Dio gli ha imputato la giustizia senza opere quando lui credette in una promessa che il Dio gli aveva fatto e così ancora oggi chi crede in colui che ha risuscitato dai morti Gesù a lui gli viene messa in conto di giustizia la fede quindi tu peccatore che mi ascolti devi sapere questo che tu puoi essere giustificato ma finora hai pensato di poter di poter essere giustificato mediante le tue opere ma devi sapere che questo è impossibile è impossibile ti risulterà sempre impossibile la tua giustizia farà sempre difetto non potrai mai pervenire alla giustificazione ma credendo nell'Evangelo conseguirai la giustizia di Dio che è appunto mediante la fede perché è scritto che il giusto vivrà per la sua fede e quindi sarai giustificato ecco perché ti esorto a ravvederti e a credere nell'Evangelo sì nell'Evangelo l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima poi del greco credendo infatti nell'Evangelo sarai giustificato reso giusto non solo sarai anche salvato dai tuoi peccati peccati che appunto ti signoreggiano da essi sarai liberato sarai lavato dai tuoi peccati perché il sangue di Gesù ti purificherà da ogni peccato e poi sarai riconciliato con Dio per mezzo di Cristo perché in questo momento sei un nemico di Dio a motivo dei tuoi peccati e poi otterrai la vita eterna perché credendo nel Signore Gesù Cristo l'uomo ottiene la vita eterna perché è scritto chi crede ha vita eterna quindi ti annuncio la buona novella proprio nella speranza che tu ascoltando l'Evangelo tu possa credere nell'Evangelo e così essere salvato giustificato perdonato perché credendo nell'Evangelo si ottene la remissione dei peccati pure la remissione dei peccati e poi affinché tu possa ottenere la vita eterna ed essere così sicuro che quando morirai andrai ad abitare col Signore in paradiso perché per coloro che muoiono nella fede muoiono in Cristo Gesù appunto c'è il paradiso il regno dei cieli a differenza invece di quelli che muoiono nei loro peccati cosa succede a quelli che muoiono nei loro peccati cosa succede quindi agli increduli agli increduli quando quando muoiono succede qualcosa di terribile perché si muoiono e vanno all'inferno in un luogo di tormento dove arde il fuoco e dove appunto le anime di coloro che vi sono scese sono tormentate quindi considera che cosa ti aspetta uomo o donna che cosa ti aspetta se non ti ravvederai e non crederai nell'Evangelo della grazia di Dio dopo la morte ti aspetta veramente un tormento terribile nelle fiamme dell'inferno quindi è per questo che ti ho annunziato l'Evangelo della grazia di Dio affinché tu credendo in esso tu veramente possa essere salvato perdonato giustificato per la grazia di Dio e non avrai quindi niente di che gloriarti davanti a Dio perché appunto non è in virtù d'opere ma è per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo che ha orecchi da udire oda di Dio di Dio di Dio Grazie a tutti